Amici a creare per lui musica, Luci e non solo, grande personaggio al palificio resort, tecnico sulla Luci, Davide! Amici, capite? Protagonista femminile di questa sera e non solo, grande compagna di viaggio responsabile, Kid Club per voi, Monica! Amici, capite? Amici, capite? Amici, capite? Amici, capite? Amici, capite? Amici, capite? Amici, capite?